Sì, è una bella vittoria anche perché per noi è un po' cominciato un nuovo campionato dopo le prime tre partite, un po' perché c'è stato finalmente tanto tempo o il tempo giusto per poter lavorare e organizzare la squadra, sia a livello fisico che tattico e sia perché ci sono stati degli inserimenti di nuovi giocatori. Quindi questo nuovo inizio è cominciato bene e oggi è stata una bella partita come quella di Milano, soprattutto dal punto di vista tattico, dell'applicazione, della conoscenza di quello che dovevamo fare i ragazzi sono stati veramente encomiabili.